Conferenza stampa sulla cesura del Palascoppa, siamo con il sindaco Ernesto Lecci che oggi ci ha detto i motivi per cui è stato chiuso. Sì, io sono ancora incredulo, ma devo ringraziare tra virgolette nella sfortuna l'assessore Daniele Vacca che ha voluto andare fino in fondo, perché quando siamo andati a prendere la documentazione del palazzetto, completare la commissione di vigilanza dopo i fatti di Torino, le norme sono più restrittive, abbiamo scoperto che manca incredibilmente il collaudo, cioè il documento principe, presupposto essenziale per poter entrare all'interno di un edificio e che ci sia il collaudo, che ci sia l'edificio, è stato realizzato a norma. Per il palazzetto dello sport non esiste nessun collaudo e quando abbiamo chiesto a un tecnico di fare un collaudo e quindi di fare tutti quelli che sono i rilievi e le indagini per capire se la struttura, la punta strutturale, può essere collaudato se vanno fatti dei lavori di rinforzamento, ci siamo accorti che i pilastri, i pali a sostegno di questo palazzetto che dovrebbero sostenere un peso di circa 118 tonnellate, attualmente dalle prove possono reggere un peso di solo 20 tonnellate. Quindi il palazzetto dello sport è in piedi per puro miracolo, come è successo purtroppo in Italia con la morte di tanti bambini, come è successo per il ponte Morandi, alcune strutture sono in piedi magari da tantissimi anni, si pensa che non cadranno mai e poi purtroppo succede l'evento tragico, senza collaudo chiaramente il palazzetto non può essere aperto. Per adeguarlo dal punto di vista sismico, per metterlo a norma, stiamo cercando di capire quanto bisognerà spendere, se è una cifra accessibile lo faremo, se è una cifra importante fuori dalle nostre possibilità aspetteremo per fortuna di realizzare il nuovo palazzetto perché poi nella sfortuna c'è anche l'aspetto positivo, abbiamo avuto un finanziamento di 2 milioni di euro per il nuovo palazzetto, è già partito l'Iter, pensiamo per giugno-luio del prossimo anno di poterlo inaugurare e quindi almeno le nostre lacrime sono meno amare. Quindi si chiude una porta e si apre un portone? Si, si apre un portone con il grosso punto interrogativo del prossimo campionato della Serie A2, come diceva il Presidente Matos, senza palazzetto chiaramente non potrà iscriversi al campionato, significa mettere una pietra tombale sulle serie professionistiche che ci sono nella nostra città. Questo lo vogliamo evitare, quindi oggi o domani andrò in Regione Calabria o cercheremo altri tipi di finanziamenti possibili per adeguare o almeno per allungare la vita nominale del palazzetto, almeno altri due o tre anni e poterlo utilizzare ed evitare che così lo sport che si fa al suo interno sparisca da soverato. Lei pensa che questo si possa fare? Beh, se già un primo incontro con i tecnici strutturisti l'abbiamo avuto, se vengono confermati gli importi sotto i 100.000 euro, penso che come Comune, pur essendo un Comune in predissesto, che veramente non abbiamo i soldi per la carta da fotocopia che compro io per la mia stanza, figuriamoci per rifare un palazzetto, cercheremo il modo di trovarli da qualche parte, quindi sono fiducioso. Se invece i lavori superano queste cifre e non è nella nostra disponibilità, o la Regione Calabria o troviamo qualche altro finanziamento, o non credo sarà possibile riaprirlo. Certo che in un momento delicato per la società, parliamo della società del volo soverato, questo non ci voleva, però purtroppo, giustamente come dice lei, deve guardarsi le spalle perché può succedere qualsiasi cosa da un momento all'altro. Sì, è stato un fulmine a ciel sereno, però è meglio essere ricordati come il sindaco, l'amministrazione che è stata costretta a chiudere il palazzetto, piuttosto che come l'amministrazione che ha lasciato morire sotto il palazzetto delle persone o dei bambini ancora peggio. Presidente Matozzo, abbiamo assistito alla conferenza stampa del sindaco sulla chiusura del palazzetto. Certo che in un momento delicato come quello dei play-off, forse è veramente un danno gravissimo. Ma guarda Mimmo, dopo tutto quello che abbiamo fatto quest'anno con una squadretta che sta dimostrando di essere all'altezza della situazione, mi trovo io con le mani legate. Non so più che cosa fare, anche perché probabilmente Palmi per la prossima partita contro Ravenna è occupato, dove vado a giocare? Non lo so, non so, ecco perché io ho chiesto, mi avete ascoltato tutti, datemi una mano, datemi una mano a trovare l'opportunità di andare in un palazzetto dove si possa giocare, datemi una mossa, difendete, credo io, non Matozzo, non c'entra niente, difendete la palla a volo di Soverato, che è in A2, che sta facendo bene, che si sta giocando i play-off. Ho bisogno di avere un supporto per poter venirne fuori, io non so più che cosa devo fare. Intanto fino a qualche settimana fa si è assunto la responsabilità all'amministrazione comunale per farvi giocare alla palascoppa, anche se magari le condizioni forse non c'erano, però molto probabilmente si sono trovati alla stretta di doverlo fare questo. Non ci piove, io non accuso nessuno perché la situazione è quella che è, però è altrettanto vero che adesso bisogna trovare un rimedio a questa situazione tragica che c'è. Io in questo momento qua, l'unica cosa che mi viene da dire, beh, mollo tutto, non c'è bisogno di spendere soldi per i play-off, se poi io domani la prospettiva di giocare a Soverato non ce l'ho, dove vado a giocare? Dove? Ditemi, tutta la Calabria è un po' inserita in tutti questi calcoli, agibilità, non agibilità, che fino a ieri non c'erano, adesso ci sono, per l'amore di Dio, ci mancherebbe la sicurezza di chi opera dentro è sovrana e guai a dire che tutti vogliamo rischiare, no, non deve rischiare nessuno, però una mano per poterne venire fuori credo di meritarla, se non me la date che faccio da solo io, caccio in continuazione soldi, vado a fare prestiti, ma fino a prima o poi questi prestiti e questi soldi finiranno, allora finirà anche la pallavolo, è un peccato. Infatti questo, ci chiediamo quale sarà la sorte del pallavolo Soverato? È un peccato perché dieci anni di Serie A2, fatta con tantissimi sacrifici sulle spalle di questo signore, di qualche altro amico che mi ha dato una mano, che io ringrazio sempre e comunque per quel poco che mi hanno dato, però io adesso sono solo, sono solo. Ecco perché ho chiesto aiuto anche all'amministrazione comunale, anche alla politica, affinché la politica possa mettermi nelle condizioni di disputare queste partite con meno dispendio di quattrini. Io mi ricordo in passato quando c'era di andare a fare trasferte, di andare a giocare altrove, l'amministrazione comunale si muoveva. Io non ho preso, dico, un centesimo di aiuto per queste trasferte che sto facendo a Palme. E Mimmo, tu lo sai che per andare a giocare a Palme la mia squadra spende 2.000-3.000 euro per andare lì, non è che sono noccioline. Adesso, per esempio, noi dobbiamo andare a prendere il Taraflex portato a Palme con tantissimi sacrifici di natura fisica per prendere questi 20 rotoloni. Adesso li dovremmo prendere, portare, rimettere al palazzetto di Soverato lì, piazzarli lì e poi aspettare di sapere dove dobbiamo portarli per andare a giocare. Quindi, che so, ci rimane Palaggiovino che io avevo messo come secondo campo. Beh, allora interessatevi all'amministrazione di Catanzaro Lido, dite che c'è da fare il play-off e cerchiamo di farli fare a questa volle Soverato, che è dia 2, ripeto, con tutto il rispetto dei settori giovanili, di tutte le altre squadre di categoria inferiore, per l'amore di Dio. Ma questa è una 2 di pallavolo nazionale. E dove l'aiuto? Non lo vedo, sono così amareggiato, così abbattuto, che anche una persona come me, che ha fatto di tutto attraverso la passione che mi ha sempre legato ad andare avanti, adesso non so più cosa fare. Questa volta non trovo una soluzione. Presidente, però, di positivo, c'è stata la promessa dell'amministrazione comunale che cercherà in tutti i modi, entro settembre, all'inizio del prossimo campionato, di avere il nuovo palazzetto. Bene, questo è Vangelo, io li ringrazio. Ma da qui a settembre io, questi play-off dove li faccio? Io domenica, adesso domenica andiamo fuori, andiamo a San Marignano, ed è fuori. Ma la prossima partita ce l'ho con Ravenna. Dove gioco? Sulla spiaggia? Dove metto io un campo di pallavolo? Ditemelo. Allora, aiutatemi, telefonate a tutta l'amministrazione comunale e dite che questa pallavolo deve giocare. Mettetemi nelle condizioni di poter andare a giocare. Altro non posso fare che fare anch'io l'operaio e spingere i rotoloni sul camion per poterli spostare, come l'abbiamo fatto insieme, per la verità, a Daniele Vacca, insieme a Cristian Castenò, al Presidente del Consiglio. L'abbiamo messo sul camion, li abbiamo portati a palmi. Adesso bisogna prenderli da palmi e portarli dove? Grazie. Grazie. Grazie.